dormire con il cane nel letto quali sono i pro e i contro ogni animale necessita del proprio spazio dove riposare senza essere disturbato posizioniamo la cuccia in un posto appartato ma sempre vicino al nucleo familiare il cane un animale gregario come l'uomo quindi l'isolamento sociale non fa parte della sua natura necessita di condividere quotidianamente momenti di vita con il nucleo familiare se ci fa piacere che il cane dorma con noi nel letto non ci sono controindicazioni se non l'eventuale riduzione fisica dello spazio ed una minor comodità ricordatevi sempre di essere coerenti una volta che avete deciso di farlo salire sul letto concedeteglielo sempre i cani infatti non possono comprendere i comportamenti incoerenti tipici della specie umana rispettare le regole significa essere delle ottime guide per il nostro cane